La mostra su Vanda Ferragamo è un inno alla grandezza della storia della famiglia Ferragamo, alla grandezza di questa donna, ma è anche un grandissimo monito in un'Italia che è ancora a livello del Medioevo nel sistema e nel supporto alle donne affinché possano conciliare vita familiare e vita lavorativa. Al Museo Ferragamo, tra Piazza Santa Trinita e Via Tornabuoni, nel Salotto della Moda di Firenze, c'è la mostra Donne in Equilibrio 1955-1965, visitabile dal 20 maggio 2022 al 18 aprile 2023. È un omaggio a tutte le donne, in particolare a Vanda Miletti Ferragamo, madre dei sei figli con cui è cominciata la grande dignastia dell'alta moda che caratterizza Firenze. Ospite d'onore alla cerimonia di presentazione, tra gli altri, l'attrice Stefania Sandrelli, tra le icone di quegli anni e di quelli a venire, che ha letto ai presenti un toccante passo del libro che racconta la vita di Vanda. La mostra è un autentico tuffo suggestivo nella vita e nei costumi di quei tempi. E allora abbiamo pensato a questo capitolo fondamentale della storia italiana, questo 1955-1965, questo decennio che per lei è stato fondamentale perché è stato quello in cui ha cambiato totalmente vita. Quindi spero che il catalogo che è stato pubblicato sia anche una raccolta per i giovani, per chi studia questi argomenti per entrare in questo straordinario decennio dove si vede questa trasformazione delle donne che si pongono questa domanda della signora Ferragamo come equilibrare l'educazione con dei figli, la cura della famiglia e pensare un po' anche a se stesse, al proprio tempo libero, alla realizzazione del lavoro. È il momento in cui le donne, tutte le donne, le donne che iniziano a lavorare vogliono vestirsi bene, vogliono essere belle. Quindi cambia il modo di truccarsi, iniziano le prime diete, l'attenzione al corpo ed ecco che nasce accanto ad alta moda la boutique, ma soprattutto la confezione, che non è più la confezione un po' arrangiata e modesta dei primi anni, comincia a diventare la confezione che risponde a queste esigenze di una vita che cambia. Penso che si tratti di una bellissima manifestazione, una manifestazione che dà un messaggio molto forte, di valore non soltanto artistico, culturale, ma economico e sociale. Un messaggio molto chiaro anche, perché ci dice che le donne oggi in Italia hanno tutto il diritto di coniugare la vita familiare con quella professionale, come è riuscita a fare Vanda Ferragamo. Ma noi non dobbiamo avere delle straordinarie eccezioni come Vanda Ferragamo. Dovrebbe essere la normalità, quella per cui una donna possa essere messa in condizione di coltivare il successo, la carriera, senza essere ricattata, come abbiamo visto nel mondo della moda da parte di qualcuno che ritiene che le donne possano fare carriera o lavorare nella moda solo se abbiano più di 40 anni e se non abbiano problemi familiari.